Questa mattina conferenza stampa alla Procura della Repubblica di Taranto su quanto si è svolto negli ultimi 365 giorni a tenerla il Procuratore della Repubblica, il dottor Carlo Maria Capristo, e il Procuratore aggiunto il dottor Maurizio Carbone. Procuratore, che anno è stato quello che sta per finire? Sicuramente è un anno proficuo e colgo l'occasione per ringraziare soprattutto i colleghi che hanno lavorato molto bene e gli amministrativi che nonostante i ranghi ridotti si sono davvero impegnati tantissimo per cui sia io che il Procuratore aggiunto siamo soddisfatti del bilancio consultivo di questo ufficio. E dalla recente classifica del Sole 24 Ore, segnali importanti e positivi per quanto riguarda il lavoro della Procura? Beh, io non lo conosco, questa graduatore non l'ho vista, però posso dire per l'esperienza che abbiamo vissuto in questo periodo che c'è un grande impegno per combattere la criminalità organizzata. Devo dire anche che c'è una grande intesa con la direzione distrettuale antimafia di Lecce perché sapete meglio di me che quando ci sono soddorizzi criminosi di tipo mafioso interviene anche la DDA di Lecce in collaborazione a quello che anche noi facciamo per il territorio. Per cui voglio dire, insomma, sono contento, sono compiaciuto di questa indicazione del Sole 24 Ore. Ecco, dottor Carbone, a 360 gradi tutta una serie di operazioni, di azioni, forse varrebbe la pena di mettere in evidenza il lavoro che voi fate contro la violenza di genere, soprattutto in un momento in cui questo è diventato di grande attualità? Assolutamente, uno dei settori in cui siamo stati particolarmente occupati e lo siamo quotidianamente quello dei reati in materia di violenza di genere. Abbiamo rafforzato la sezione specializzata in materia che oggi è composta da quattro sostituti e dal procuratore aggiunto da me che coordino la sezione. Questo per garantire una risposta immediata, celere, tempestiva per reati che in Taranto, ma soprattutto nella provincia di Taranto, sono sempre più diffusi. Abbiamo a questo proposito realizzato un protocollo delle linee di indagine con le forze dell'ordine e un protocollo di coordinamento anche con la procura minori. Questo è la consapevolezza che questo tipo di reati necessitano un'estrema professionalità da parte di tutti e un coordinamento tra i vari organismi impegnati sul territorio perché, ripeto, è un fenomeno in continuo e costante crescita. E infatti il record per quanto riguarda le sezioni specializzate della procura lo detiene proprio quello delle fasce deboli con 416 procedimenti tra aprile e dicembre, seguito a sua volta dalla criminalità con 186, con gli infortuni con 160, con la pubblica amministrazione 178 e l'ambiente 141.